Pescara ospiterà la cerimonia conclusiva del premio Asimov, una bella iniziativa che fa onore alla città di Pescara. L'ottava edizione, un premio nazionale, voglio ricordare, riservato agli studenti delle scuole superiori e che trova Pescara ospitalità in una giornata particolare che sarà quella del 6 di maggio. La cosa non può che riempirci di orgoglio perché è evidente che la scelta di Pescara è una scelta dovuta anche alle caratteristiche che la città esprime in ogni sua attività quotidiana. Non posso che ringraziare gli organizzatori, in particolare il professor Vissani per aver scelto Pescara e la sala consigliare del comune di Pescara. Tra l'altro ci saranno anche degli studenti delle scuole pescaresi e questo non farà altro che arricchire ulteriormente una presenza di per sé già molto molto importante. I finalisti sono stati scelti da una commissione di quasi 1200 professori, universitari, ricercatori e soprattutto professori di scuola superiore di tutta Italia. Quindi sono libri molto belli, sono scelti da circa 200 libri, li votiamo tutti insieme e poi alla fine quelli che hanno il miglior punteggio vengono proposti alla giuria dei ragazzi e delle ragazze. Una bella iniziativa che serve per far sì che la scienza e non solo possa essere sempre più conosciuta dai nostri ragazzi. Credo proprio di sì e poi penso che ancora più importante è la cultura scientifica perché i ragazzi hanno il compito di non solo votare i libri ma anche di recensirli. Quindi anche loro poi entrano in lizza, vengono votati e premiati da ogni singola regione. Sono 20 regioni, 13 mila ragazzi che quindi hanno fatto questo grosso lavoro e veramente sono molto orgoglioso di questa cosa e molto grado verso la città di Pescara che ci ospita.